RFI ha iniziato a trattare i ristori faccia a faccia con i cittadini di Eboli sottoposti ad espropri per la realizzazione del lotto battipaglia romagnano del progetto per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L'incontro si è tenuto martedì sera presso il municipio alla presenza del sindaco Mario Conte. In aula circa 50 persone tra quelle destinate ad abbattere case o aziende per far spazio al nuovo tracciato ferroviario. Dalla discussione è venuta fuori la disponibilità dei funzionari di RFI ad andare incontro alle richieste dei cittadini. È stata accolta anche la proposta di fare eseguire le perizie tecniche da ciascun proprietario dei fabbricati destinati all'abbattimento sulle quali basare l'assegnazione dei ristori tenendo conto del tetto di spesa. Dall'incontro è venuto chiaramente fuori la volontà di procedere nella realizzazione dell'opera nonostante le opposizioni da parte delle amministrazioni e delle popolazioni di quei territori. L'apertura mostrata da RFI è servita a tranquillizzare solo in parte gli animi perché la tensione ad Eboli è ancora molto alta ed è stata evidente un attimo prima dell'incontro. Il titolare di un'impresa di gas destinata all'esproprio è entrato nell'aula consigliare urlando. Qualcuno ha provato a calmarlo ma la sua rabbia era troppa e non gli ha consentito di calmarsi. Nel caos generale ha strattonato un vigile urbano che è finito a terra. L'imprenditore è stato identificato, l'agente della polizia locale è stato accompagnato in ospedale dal quale è stato dimesso in serata. Grazie. Grazie.